Buongiorno e buona Pasqua. Oggi è il 12 aprile, domenica di Pasqua per questo anno 2020. La gioia della Pasqua pervade i nostri cuori. Il Signore è risorto. Ma questa affermazione è un'affermazione che è tanto storica quanto di fede, perché se non c'è la fede non c'è neanche la storia. E ce lo dice proprio il brano del Vangelo che ascolteremo oggi a Messa, perché mette i paletti a tutto quello che riguarda la risurrezione di Gesù. Le prime in tutti i racconti evangelici che hanno a che fare con il risorto o che si rendono conto di ciò che è successo sono le donne. E le donne, secondo il diritto ebraico, non potevano testimoniare in tribunale, la loro testimonianza non valeva nulla. Tant'è vero che gli apostoli sono i primi a non credere alle donne. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la risurrezione è contemporaneamente un fatto storico ma un fatto di fede, perché se non c'è la fede non si può comprendere ciò che è successo. E il fatto che siano le donne a essere testimoni della tomba vuota e della risurrezione di Gesù ci dice in modo molto chiaro che proprio perché non sono credibili le persone che l'hanno visto e che hanno visto la tomba vuota vuol dire che sei libero di crederci oppure non crederci. Alla base c'è sempre l'amore e dove c'è l'amore c'è la libertà, che non è costrizione. Se c'è una cosa che Dio ha insomma attenzione e insomma rispetto è la nostra libertà. Però dall'altro lato c'è il suo intervento potente. Cristo è risorto, però possiamo dire anche che Cristo è stato risuscitato dal Padre. E c'è una cosa molto bella nel Vangelo di oggi, perché Maria di Magdala arriva spinta dall'amore verso Gesù al sepolcro e c'è la pietra che chiude il sepolcro, quella pietra grossa, e trova la pietra arrotolata via. Era stata tolta dal sepolcro. Questo era stata tolta, questo verbo passivo, non ha il soggetto agente. Questo è un classico del mondo biblico perché in tutta quanta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, quando trovate un verbo al passivo che non è il soggetto agente, si dice tecnicamente che è un passivo divino. Passivo divino significa che chi agisce è Dio stesso. Ora, vedete, stiamo vivendo un periodo pieno di disagi. Quante morti ci sono state, quanta sofferenza, quante persone hanno perso i loro cari, quante sono le situazioni che ci angustiano, quanto pesante è questa reclusione che ci sta privando della gioia di incontrarci o anche molte volte della possibilità di uscire e di fare qualche cosa. Sembra che ci sia una pietra tombale messa in questi giorni, in queste settimane sulla nostra vita. Eppure la pietra tombale che ha i suoi risvolti anche sociali, economici, familiari, scolastici se volete, nonostante tutta la buona volontà. Non la togliamo noi, la toglie Dio stesso. Questo deve riempirci di gioia in questo giorno, deve riempirci veramente di gioia in questo giorno, perché la pietra dal sepolcro la rotola via Dio in persona. È in Cristo risuscitato la nostra vita risuscita, perché la risurrezione non ce la procuriamo da soli perché non possiamo farlo, la risurrezione ci viene donata dall'alto, è un dono di Dio. E perché questo avvenga occorre che noi comprendiamo le scritture, tant'è vero che alla fine del brano del Vangelo di oggi c'è scritto, infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dei morti. E al centro che cosa c'è? La risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù che viene testimoniata nella tomba vuota, che viene constatata dall'autorità di Pietro, che viene compresa dall'amore di Giovanni e dal fatto che lui è un testimone oculare in quanto aveva accompagnato Gesù non solo ai piedi della croce dove si trovava con sua madre, ma l'aveva poi accompagnato al sepolcro dopo la sua deposizione dalla croce e quindi sapeva perfettamente come stava la situazione. Ebbene, la Sacra Scrittura, l'autorità della Chiesa perché Pietro che entra per primo nel sepolcro nonostante Giovanni fosse arrivato perché era più veloce ma si è fermato, la bellezza dell'amore della testimonianza dell'Apostolo che Gesù amava e l'amore della Maddalena che arriva e si guarda intorno chiedendosi quale fosse la novità, ci proiettano nella nostra libertà verso il riconoscimento nell'amore dell'immenso dono che Dio ci ha fatto in Cristo nella risurrezione. Ecco perché non c'è situazione che ormai non possa essere risolta, ecco perché non c'è peccato che non possa essere perdonato, ecco perché non c'è morte che possa fermare la nostra speranza, ecco perché non c'è dolore o sofferenza che possa fermare il nostro impegno e i nostri sforzi, perché la nostra vita è preziosa e Dio in Cristo risorgendo ci ha dimostrato che noi per lui siamo preziosi al punto da immolare la sua vita morendo per noi per prendere fino in fondo la nostra umanità e trasfigurarla nella bellezza e nella divinità della risurrezione. È questo che da un punto di vista cristiano deve dare la forza ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari di continuare con il loro impegno, è questo che deve far sì che noi dobbiamo saper affrontare questo periodo di ristrettezze nella consapevolezza che c'è un'alba gioiosa che ci attende. È questo che deve proiettarci oltre, non semplicemente verso la fine dell'epidemia quando potremo di nuovo tutti uscire per abbracciarci, ma verso l'oltre di Dio che in Cristo risorto ci dona la pienezza della vita e ci dà un pegno di vita eterna che siamo chiamati a fare nostra nella nostra esistenza quotidiana. Buona Pasqua allora e che il sorriso oggi sia particolarmente efficace e che sia particolarmente bello nel dono che ne facciamo a tutti gli altri.